Amici del basket, benvenuti al Palamarco Mascagni. Oggi di fronte a Nova Palacanese, la Maddalena e Mistral Olbia. Arbitrano la partita Manchia e Testoni di Ozzieri. Tutto pronto per l'inizio. Saluti tra le due squadre. Ecco gli arbitri si avvicinano al centro del campo. Ancora saluti tra i giocatori di entrambe le squadre. Si può incominciare sulla palla a due. Polonespeca per la nuova. Randazzo numero 5 del Mistral. Si parte. Prima possesso per la nuova. Claudio Moretti. Da Daniele Morganti. Poi fuori da Alessandro Brescia. Polonespeca. Daniele Morganti. Va dentro. Ancora fuori per Alessandro Bianco. Che perde palla. Poi si gira e tira, ma sbaglia. Rimbalzo del numero 5. Carpe per Cocco, numero 9. Poi va da Folino. Tiro da tre punti che non va. Rimbalzo di Alessandro Brescia. Claudio Moretti. Attacca la difesa del Mistral. Poi l'ultimo tocco di un giocatore proprio del Mistral, del numero 12. Folino. Ora Alessandro Brescia per la nuova. Dentro da Alessandro Bianco. Primi due punti della partita. Firmati da Alessandro Bianco. Due a zero per la nuova. Ora palla per il Mistral. Con Cocco. Daniele Morganti anticipa il numero 10. Ancora Daniele Morganti. Va dentro. E c'è il fallo proprio del numero 10. Saranno due liberi per Daniele Morganti. due liberi per Daniele Morganti. Sbaglia il primo. Sul primo ferro. Va dentro il secondo. Tre a zero per la nuova. Ora pallone per il Mistral. Con Cocco. Poi il numero 10. Cerca che trovi il numero 5. Poi Cocco. Ancora palla dal numero 10. Secondi per finire l'azione. Ora Monaco. Fuori da Randazzo. Il tiro del numero 10. Che non va. Rimbalzo. Ultimo tocco di un giocatore della nuova. Dice l'arbitro. Rimessa. Per il Mistral. Ce ne carica il numero 10. Poi Folino. Cocco. Attacca Alessandro Brescia. Poi Randazzo. Il tiro che non va. Rimbalzo di Alessandro Bianco. Poi Claudio Moredu. Polonespeca. Alessandro Brescia. Si butta dentro. Poi palla dentro da Alessandro Bianco. Da parte di Claudio Moredu. Polonespeca. Claudio Moredu da tre punti. Non va. Rimbalzo di un giocatore del Mistral. Cocco. Poi Folino. Va dentro. E sbaglia. Rimbalzo di Polonespeca. Poi Claudio Moredu. Poi Claudio Moredu. Ci parla a metà campo. Si ferma. A preparare Alessandro Bianco. Tiro da tre punti. Cospazio. Alessandro Bianco. Sei a zero. Tiro da tre punti. Ora. Pallone per il Mistral. Monaco. Il tiro. Canestro col fallo di Monaco. numero quindici del Mistral. Canestro buono più libero. Primo fallo di Alessandro Brescia. Libero per Monaco. Segna è libero. Sei a tre. Ora. Pallone per la nuova. Polonespeca. Claudio Moredu. Ancora Claudio Moredu. Palla persa. Gli alla ruba il numero dieci. Che parte. Ancora il numero dieci. Segna. Sei a cinque. Ora Daniele Morganti per la nuova. Va dentro. Scarica per Polonespeca. Ancora Polonespeca. Claudio Moredu. Polonespeca. Infrazione di passi. Di Polonespeca. Cambio. Melanova. Esce proprio Polonespeca. Entra Fernando Madaluno. Cocco. Per il Mistral. Gli alla ruba Alessandro Brescia. Parte Alessandro Brescia. C'è il fallo. Questo è il fallo antisportivo. L'arbitro non dà l'antisportivo. Saranno solo due liberi per Alessandro Brescia. Ancora liberi. Va il primo. Lo mette dentro. Va con il secondo. L'errore. Per il rimbalzo di Alessandro Bianco. Daniele Morganti. Scivola. La passa per Alessandro Brescia. Tiro da tre punti che non va. Claudio Moredu recupera il pallone. Grande passaggio. Per Alessandro Brescia. Poi c'è il rimbalzo di Fernando Madaluno. E il fallo del numero 15 Monaco. Due liberi per Fernando Madaluno. Due liberi. No, non sono due liberi. Rimessa. Pallone ancora per la nuova. Ora Alessandro Bianco. Finta. Poi perde palla. Gli alla ruba il numero 9 Cocco. Poi il numero 10. Monaco. Palleggio. Arresto. Tiro da tre punti che non va. Rimbalzo di Daniele Morganti che parte. Ancora Daniele Morganti. Scivola. Poi Alessandro Bianco. Non va. Ancora avanti. 9 a 5. 5 minuti alla fine del primo quarto. Pallone per il Mistral. Monaco. Cocco. Dentro da Randazzo. In sospensione. Mette i due punti per il Mistral. Claudio Moredu per la nuova. Claudio Moredu. Claudio Moredu non va. E poi scivola. Palla per il Mistral con Cocco. Dentro da Randazzo. Il tiro. E va a segno. 9 pari. Pallone per la nuova con Claudio Moredu. Daniele Morganti. Si scivola in campo. Ora c'è il fallo del numero 10. Attenzione. Ora le proteste del 10. Ora anche commenti dal pubblico. Rimessa per la nuova. Claudio Moredu sta in carica. Alessandro Bianco. Va da Alessandro Abrescia. Tiro da tre. Che non va. Rimbalzo poi del Mistral. Va da Monaco. Dentro da Randazzo. Poi Folino. Cerca il numero 4. Tiro da tre. Del numero 10. Va dentro. 12 a 9. Ora Claudio Moredu per la nuova. Alessandro Abrescia. Dentro da Fernando Madaluno. Daniele Morganti. Tiro da tre. Che non va. Fernando Madaluno. Fa. Fallo a rimbalzo. Cambio. Cambio. Nel Mistral esce il numero 5 Randazzo. Entra il numero 16. Ora. va numero 4. Scarica per. Numero 15. Dentro. Dal 16. Poi ha calpestato le andi fuori. Sarà rimessa per la nuova. cambiano la nuova. Esce Claudio Moredu. Entra Stefano Faracciolo. Pallone per Daniele Morganti. 9 a 12. 3 minuti 55. La fine del primo quarto. Ora Daniele Morganti. Dentro da Fernando Madaluno. Ancora fuori da Daniele Morganti. Dentro da Alessandro Brescia. Bella questa l'azione della nuova. 11 a 12. Ancora per il Mistral. Poi il numero 4. Pallone. Dentro per il 16. Ultimo tocco proprio del gioco di Alessandro Bianco. Giocatore della nuova. Rimessa per il Mistral. Con Folino numero 12. fuori dal numero 4. Poi il tiro da 3. Del numero 10. Che mette anche questa. 15 a 11. Per il Mistral. 3 minuti alla fine del primo quarto. Ora Stefano Faracciolo. c'è il fallo. Del numero 15. Monaco. Due liberi. Ora cambio nel Mistral. Entra il numero 11. De Muro. Esce con il 12. Folino. Due liberi per Stefano Faracciolo. sbaglia il primo. Sbaglia il primo. Segna il secondo. 15 a 12. pallone per il numero 4. Ora ancora il numero 4. Va dal 18. Dentro dal 10. Poi tiro da 3. Del numero 16. Che non va. Ora due giocatori della nuova rimbalzo. Sarà. rimessa per il Mistral. Numero 4. Dentro dal numero 16. Liela Luba. Alessandro Bianco. Che parte. Si ferma. Poi fuori da Stefano Faracciolo. Daniele Morganti. Poi Alessandro Bianco. Sbaglia. Il tiro da 3. Poi il numero 4. Pallone per il 10. Ancora il 4. Vai il 4. Poi il 15. 16. 4. Dentro dal 16. Pallone quasi troppo alto. Poi De Muro. 11. Monaco. Tiro del numero 10. Che non va. Rimbalzo di Alessandro Bianco. Aperper Stefano Faracciolo. Poi. Ancora Alessandro Bianco. Dentro da Stefano Faracciolo. Poi cerca. Ma non trova Fernando Madaluno. Parte il numero 10. Uno contro uno con Daniele Morganti. Lo tiene benissimo. Ultimo tocco. Proprio di Daniele Morganti. Rivessa. Per il Mistral. Ora. Cambi da entrambe le parti. Rivessa. In attacco per il Mistral. E' per il tiro del numero 4. Che la mette dentro. 17 a 12. 1 minuto e 27. Alla fine del primo quarto. Ora Daniele Morganti per la nova. Poi Alessandro Bianco. Il tiro. Non c'è il fallo. Poi Chico De Montis. Perde palla. Rimessa. Per il Mistral. Un bor 10. Dentro dal 16. Il tiro. Con la tabella del 16. 21 a 12. No. 19 a 12. Ora. Se fanno far a ciolo. Il tiro di Ivan. Zanchetta che non va. Rimbalzo del numero 11. De Muro. Dentro dal numero 16. Il tiro. C'è il fallo. Di Alessandro Bianco. Due liberi per il numero 16. Del Mistral. Cambio intanto Nelanova. Esce Daniele Morganti. Intanto Claudio Moretti. Intanto. Liberi per il numero 16. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Poi pallone per la nuova. Con Claudio Moretti. Da Stefano Ferracciolo. Poi Chico De Montis. Fuori da Claudio Moretti. La tripla che non va. Rimbalzo di Ivan Zanchetta. Poi Claudio Moretti. Il tiro di Claudio Moretti. Che la mette dentro. 19 a 14. 15 secondi. Pallone per il numero 10 del Mistral. Dentro dal 16. Il tiro. Il fallo. Del numero 7. Alessandro Bianco. Due liberi ancora per il numero 16. va il primo. Dentro. 20 a 14. Secondo. Sul ferro. Ora due secondi. Due secondi. Il tiro di Alessandro Bianco. Che prende la tabella. Finisce così il primo quarto. 20 a 14. Ora piccola pausa. E poi torniamo per il secondo quarto. Quanti amici sono con la L. Luca. E Luca con la A. si riprende. Si riprende. Dopo la fine del primo quarto. Sarà. C'è scritto. Ah, è stata un'assoluta. Sarà rimessa per... La nova. No. Per il Mistral. Con il numero 11. dal quattro. Blocco irregolare del numero 13. Blocco irregolare. Rimessa... per la nova. Claudio Moredu. Alessandro Bianco ancora per Claudio Moredu. Cerca e trova... Chico De Montis. Ancora Claudio Moredu. Dentro da Ivan Zanchetta. Fuori da Alessandro Bianco. Ancora dentro da Ivan Zanchetta. Non va. Pallone per il numero 12. Capre per il numero 16. Poi dal numero 4. Pallone lungo. Rimessa per la nova. Claudio Moredu. Iman Zanchetta. Poi palla persa da Ivan Zanchetta. Parte il numero 4. Capre per il 12. Va dentro. Infrazione di passi. Ha fatto tre passi il numero 12. Rimessa per la nova. Con Claudio Moredu. Pallone per Chico De Montis. Fuori da Alessandro Bianco. La finta di Alessandro Bianco. Che va dentro. Non c'è fallo. Pallone per il numero 12. che va a segnare il 22 a 14 per il Mistral. Ora Claudio Moredu. Perde palla. va il numero 12. Fallo di Claudio Moredu. Le proteste di Claudio Moredu. Due liberi intanto per il numero 12. Folino. Cambia la nova. Esce proprio Claudio Moredu. Entra Daniele Morganti. Primo libero. Va dentro con un po' di fortuna. Secondo non va. Preso da Daniele Morganti. Poi Alessandro Bianco. Alessandro Abrescia. Dentro da Alessandro Bianco. Poi Ivan Zanchetta. Non va. Imbalzo il numero 12. Poi il numero 4. Dentro dal 16. Canestro. 25 a 14. Ora. Alessandro Bianco. Per la nova. Daniele Morganti. Vada Chico De Montis. Il tiro di Chico De Montis. Lungo. Rimbalzo il numero 12. Pallone per il 16. Va a segnare. 27 a 14. Alessandro Bianco per la nova. Fallo del numero 4. Rimessa per la nova. Esce Chico De Montis. Entra Stefano Ferracciolo. Esce Ivan Zanchetta. Entra Fernando Madaluno per la nova. Ora Stefano Ferracciolo alla rimessa. Per Daniele Morganti. Stefano Ferracciolo. Alessandro Bianco. Da Fernando Madaluno. Anticipato dal numero 16. Va il 12. Non va. Rimbalzo di Fernando Madaluno. Alessandro Brescia. Non è fallo. Questo non è fallo. L'abito dice così. Si vedeva che era un fallo evidente. Ma comunque è la nuova segna. con Daniele Morganti. Va il numero 11. La tripla che non va. Poi il numero 16 a rimbalzo. Fallo di Fernando Madaluno. Ora cambio. Esce il numero 13. Nel mistral. Esce il numero 13. Entra il numero 5. Randazzo. Intanto rimessa. Per. Il mistral. va il numero 12. Trova il numero 5. Poi il 4. Dentro ancora dal 5. Fuori dal 15. Il tiro del 15. Va dentro. 29 a 16. Daniele Morganti per la nuova. Pallone per Alessandro Bianco. Troppo alto. Pallone è uscito fuori. Time out. Intanto per la nuova. Piccola pose. Poi torniamo. Rimessa per il mistral. Con il numero 4. Pallone per il numero 11. Alcarpa il numero 4. Chiamano schema. Poi. Numero 15. Il numero 15. Poi il tiro del 5. Rimbalzo della nuova. con. No. Del mistral. Attenzione. È rimasto. A terra. Fernando Madaluno per la nuova. Colpo in faccia. Per lui. Niente di grave. Speriamo per lui. Speriamo per lui. Rimane in campo. Ora sarà rimessa. Per il mistral. che è il numero 11. Vada dentro dal 15. Poi il 12. Il tiro. Che non va. Rimbalzo del numero 5. Poi il 12. 11. Dentro dal 5. Stefano Faraciolo gliela prende. Ancora Stefano Faraciolo. E perde palla. Va il 12. Il tiro del 12. Che segna. 31 a 16. Ora Daniele Morganti per la nuova. Ancora troppo alta per l'alessandro bianco. Momento di blackout per la nuova. Rimessa per il mistral. con il numero 9. Con il numero 9. Poi il 12. Dentro dal 15. Va dentro. Il tiro del 15. 33 a 16. Ora Daniele Morganti per la nuova. Alessandro Bianco. Va dentro. E segna. Alessandro Bianco. 33 a 18. Ora numero 11 per il mistral. Va dal 5. Poi il 15. Tiro del 15 che non va. Rimbalzo di Fernando Madaluno. Che apre per Alessandro Brescia. Poi Daniele Morganti. Alessandro Bianco. perde palla. Va il numero 12. Fuori dal numero 9. Poi il numero 11. Anche il numero 9. Va dal 12. Che solo può tirare da tre. Non va. Rimbalzo di Stefano Faraciolo per la nuova. Daniele Morganti. Il tiro che non va. Poi il numero 11. Va dal 12. Va dal 12. Ora va il numero 9. Poi il pallone no fallo di Alessandro a Brescia. Cambio da entrambe le parti. Per la nuova entra Claudio Moretti. C'è Daniele Morganti. Per il Mistral è uscito il numero 11. De Muro è entrato il numero 14. Mura. Dai tiro da lontanissimo che non va. Rimbalzo di Fernando Madaluno. Claudio Moretti. Cora Claudio Moretti. Stefano Faraciolo. Il tiro va dentro. 33 a 20. 3 minuti e 50 alla fine del secondo quarto. ora pallone per il Mistral va il 15 falli fallo di Fernando Madaluno due liberi per il 15 del Mistral primo libero va dentro 30 secondo sbaglia rimbalzo di Alessandro Bianco 20 a 34 ora Stefano Faraciolo per la nuova Claudio Moretti Alessandro Bianco tira da 3 non va Claudio Moretti si prende il rimbalzo Alessandro Bianco va dentro e c'è il fallo del numero 5 no 15 due liberi per Alessandro Bianco terzo fallo intanto il numero 15 dentro il primo dentro anche il secondo di Alessandro Bianco 34 a 22 ora pallone per il Mistral con numero 12 va dal 14 pallone pallone che li rimbalza sul piede poi il numero 12 5 dentro dal 15 che si butta in terra pallone per Alessandro Bianco farà la nuova dall'uno Alessandro Brescia non va rimbalzo di Alessandro Bianco che va a segnare il meno 10 per la nuova 34 24 2 minuti 51 alla fine del terzo quarto del secondo quarto ora pallone dentro per il numero 5 che va a segnare ora Claudio Moredu per la nuova Stefano Faraciolo Alessandro bianco Claudio Moredu vuole la tripla ma non la trova poi riesce a recuperare il pallone va Claudio Moredu e segna 36 a 26 2 minuti e 9 alla fine del secondo quarto ora il numero 14 del Mistral dentro dal 5 accalpestato la linea di fuori sarà rimessa per la nuova tanto cambio proprio nella nuova esce Fernando Madaluno entra Ivan Zanchetta e per il Mistral esce il numero 12 entra il numero 10 esce anche il numero 15 entra il numero 16 ora nel Mistral ora pallone per la nuova con Stefano Faraciolo Claudio Moredu Ivan Zanchetta dentro da Alessandro Bianco pallone è troppo alto per lui ora va il numero 9 dal 14 cerca il 18 dentro lo trova poi il tiro da 3 del numero 14 che non va Ivan Zanchetta rimbalzo Stefano Faraciolo ancora Stefano Faraciolo non c'è fallo ora parte il numero 14 va dal numero 9 il tiro del numero 9 che non va rimbalzo di Ivan Zanchetta pallone per Alessandro Brescia poi Stefano Faraciolo il tiro che non va rimbalzo ancora per la nuova Claudio Moredu Alessandro Bianco si prende la tripla Alessandro Bianco time out per la nuova 29 a 36 piccola pausa e poi torniamo si rientra dopo il time out per il mister allora sarà rimessa proprio per la compagine di Olbia va il numero 9 poi il 10 dentro dal 5 ancora per il 10 ancora per il 5 il tiro che non va rimbalzo del numero 14 parone per il 9 ancora per il 14 il tiro che non va rimbalzo ancora del Mistral con il numero 10 da 3 tripla del numero 10 si ritorna sotto di 10 per la nuova 39 a 29 ora 19 secondi per la nuova per finire questo quarto Alessandro Bianco Ivan Zanchetta dentro da Stefano Ferracciolo il tiro non c'è fallo 4 secondi 3 secondi 2 secondi Ivan Zanchetta gliela leva e finisce così il secondo quarto 39 a 29 per il Mistral poi picca la pace torniamo per i successivi due quarti si ritorna in campo dopo la fine dei primi due quarti il Mistral già in campo la nuova sta per entrare il primo possesso sarà proprio per la nuova con Claudio Moredu alla rimessa ultime indicazioni da parte di entrambi gli allenatori si inizia il terzo quarto con Daniele Morganti per la nuova ancora Daniele Morganti va dentro c'è il fallo del numero 16 due tiri per Daniele Morganti vediamo se andrà una buon fine intanto è il primo fallo del numero 16 sbaglia il primo Daniele Morganti Daniele Morganti mette il secondo 30 39 9 minuti 50 alla fine del terzo quarto ora pallone per il numero 4 poi il numero 5 dentro dal 12 poi il 5 il 10 il 10 4 12 dentro il 5 poi il 4 tiro da 3 del numero 10 che non va rimbalzo di Claudio Moredu che passa contro gli avversari Claudio Moredu sbaglia per poco ora poi Alessandro Bianco no l'ha toccata per ultimo un giocatore del Mistral in frazione di campo ora pallone per il numero 12 va dentro tira sbaglia Fernando Madaluno ora c'è la palla 2 il possesso per il Mistral ora forse parole di troppo nel numero 12 a Fernando Madaluno i fischi adesso per il numero 12 commenti dal pubblico saranno sarà rimessa per il Mistral ancora proteste di Alessandro Bianco numero 7 della Nova protagonista dell'ultima vittoria della Nova l'ultimo secondo contro con pagine Sassarese per 70 a 71 ora il numero 12 alla rimessa palla per il 10 ancora il 10 cerca il 4 che riesce a controllare il pallone va dal numero 16 poi il 4 Claudio Moredu gliela prende parte Claudio Moredu dentro d'Alessandro Brescia ultimo tocco del numero 12 del Mistral rimessa per la Nova time out per il Mistral piccola pausa e poi torniamo si rientra dopo il time out per il Mistral sarà rimessa per la Nova con Claudio Moredu però non è per Daniele Morganti Daniele Morganti c'è il fallo del numero andiamo un po' numero 4 fallo del numero 4 secondo fallo del numero 4 due liberi per Daniele Morganti primo non va secondo non va c'è il rimasto del numero 5 che apre per il 4 poi il 12 4 tiro da 3 del numero 4 che la mette 42 a 30 ora Claudio Moredu per la Nova c'è il fallo del numero 16 fallo del numero 16 rimessa per la Nova Daniele Morganti Claudio Moredu frazione di passi per Claudio Moredu ora rimessa per il Mistral con il numero 10 poi il numero 10 quasi la prende Daniele Morganti poi il numero 5 cadete a terra rimessa per la Nova rimane a terra il numero 5 entra il campo il dirigente del Mistral si rialza per il numero 5 rimessa per la Nova Claudio Moredu asciuga il campo si può giocare proprio Claudio Moredu dalla rimessa per Daniele Morganti Claudio Moredu Fernando Madaluno dentro da Alessandro Bianco che perde la palla va il numero 12 del Mistral con il 4 col 4 destra cla quel numero 4 fallo di Claudio Moredu terzo fallo di Claudio Moredu che esce che esce al posto di Stefano Faracciolo rimessa per il Mistral con il numero 12 per il 4 anticipa Alessandro Bianco poi Alessandro Abrescia da Daniele Morganti non c'è il fallo là incredibile Alessandro Bianco il tiro di Alessandro Bianco che non va si prende il rimbalzo ancora Alessandro Bianco non c'è il fallo incredibile non c'è il fallo incredibile ora parte il numero 4 del Mistral dentro dal 16 pallone recuperato da Alessandro Bianco ancora Alessandro Bianco dentro da Daniele Morganti che va a segno 32 a 42 ora va il numero 4 dal 10 poi il 5 il 4 dentro dal 18 Stefano Faracciolo anticipa Daniele Morganti va dentro e sbaglia Fernando Madaluno si prende il rimbalzo Alessandro Abrescia sbaglia rimbalzo del numero 4 che va poi Fernando Madaluno anticipa tutto Alessandro Bianco per Daniele Morganti c'è il fallo del numero 10 rimessa per la nuova tanto cambio nel Mistral esce numero 4 entrato il numero 9 e poi esce il numero 10 e entra il numero 11 rimassa per la nuova Stefano Faracciolo Daniele Morganti Alessandro Abrescia vuole la tripla ma non la trova rimbalzo il numero 12 che apre per il 9 poi il 16 il pallone è troppo lungo rimessa per la nuova ora cambio nel Mistral esce il numero 16 che si è fatto male entra il numero 15 ora Alessandro Abrescia per la nuova dentro da Fernando Madaluno poi Stefano Faracciolo Daniele Morganti Alessandro Abrescia Fernando Madaluno dentro da Stefano Faracciolo che sbaglia ora va il numero 9 del Mistral va il numero 12 poi il 5 9 la tripla del numero 9 che va dentro 32 a 45 per il Mistral pallone per Daniele Morganti va dentro e sbaglia rimbalzo di Alessandro Abrescia fallo del numero 15 il fallo del numero del numero 9 secondo fallo del numero 9 due tiri per Alessandro Abrescia si asciuga il campo perché è magnato saranno due liberi ricordo per Alessandro Abrescia si può tirare adesso primo libero sbaglia secondo va dentro 34 45 per il Mistral ora va il numero 9 per il 12 5 il 5 9 dentro dal 15 ultimo tocco di Stefano Faracciolo rimessa per il Mistral va il numero 5 va il numero 5 il tiro e va dentro ora è rimasto a terra il numero 15 si rialza rimessa per la nova bisogna asciugare ancora una volta rimessa per la nova con Stefano Faracciolo poi Daniele Morganti Alessandro Bianco dentro da Alessandro Abrescia che sbaglia rimbalzo di Fernando Madaluno che sbaglia rimbalzo poi del numero 15 fallo di Alessandro Abrescia sul numero 9 secondo fallo intanto di Alessandro Abrescia ora va il numero 15 fuori dal 5 poi il numero 11 va il numero 11 poi il 5 il tiro del 5 49 a 33 4 minuti alla fine del terzo quarto Daniele Morganti per la nova Alessandro Bianco Daniele Morganti Stefano Faracciolo fuori ancora da Daniele Morganti la tripla che non va cambia nella nova esce Fernando Madaluno entra entra Paolo Nespeca ora rimessa per il Mistral con il numero 9 poi il 12 dentro dal numero 15 fallo di Alessandro Bianco due liberi per il numero 15 primo libero primo libero non va secondo non va rimbalzo di Stefano Faracciolo che apre per Paolo Nespeca dentro da Alessandro Bianco poi Alessandro Abrescia Paolo Nespeca Alessandro Abrescia non va il suo tiro poi Stefano Faracciolo recupera il pallone dentro da Alessandro Abrescia che segna ora il numero 9 parla per il 12 sbaglia poi va il 15 il tiro da 3 del numero 9 la mette 52 a 35 a Daniele Morganti Stefano Faracciolo è uscito ora difficilissimo recuperare per la nuova doppio cambio entra il 14 e il 10 escono il 12 e il 5 pronto per il Mistral con il numero 9 poi il 10 14 il 10 14 15 poi il numero 10 la tripla che non va poi pallone ancora per il Mistral proprio con il numero 10 che la perde e questo dovrebbe essere fallo antisportivo no non fischia l'art fallo sì ma non antisportivo è il quarto fallo del numero 15 che esce al posto del numero 5 due liberi per Daniele Morganti è entrato il numero 16 al posto del numero 15 è molto improvabile che tu la riprendi primo libero va dentro di Daniele Morganti secondo va dentro ora cambia nella nuova esce proprio Daniele Morganti entra Claudio Moredu 37 52 per il Mistral 2 minuti e 35 alla fine del terzo quarto ora il 9 per il Mistral 14 16 poi il numero 9 scivola va dal numero 16 ancora per il numero 9 poi l'11 il tiro che non va rimbalzo di Alessandro Bianco che prova a partire in contropiede segna Alessandro Bianco 39 a 52 numero 10 per il Mistral fallo di Alessandro Brescia rimessa rimessa per il Mistral con il numero 10 para per il 9 poi il 10 sinistra dentro dal 14 poi fuori dal 9 l'11 il tiro va dentro 55 a 39 Claudio Moredu per la 9 pallone speca ancora da Claudio Moredu poi Alessandro Bianco Alessandro Brescia Claudio Moredu poi anticipato Stefano Faracciolo va il numero 14 dentro dal 16 che segna 57 a 39 un minuto e 11 alla fine del terzo quarto Claudio Moredu per la 9 pallone speca Claudio Moredu pallone speca dentro da Alessandro Brescia la stoppata poi l'ultimo tocco del numero 16 rimessa per la 9 prima c'è il cambio e c'è Alessandro Brescia entra Daniele Morganti Daniele Morganti a ricevere il pallone va da Claudio Moredu la tripla che non va rimbalzo ancora suo poi pallone per il numero 9 fallo di Daniele Morganti saranno due liberi per il numero 9 e non ti lamentate ha fatto un fallo e stai zitto due liberi per il 9 39 a 57 per il Mistral primo libero non va secondo va dentro 58 a 39 42 secondi alla fine del terzo quarto Claudio Moredu per la 9 cerca e trova Daniele Morganti poi Stefano Ferracciolo Polonespeca Stefano Ferracciolo Daniele Morganti poi per la ricoperta la tripla che non va ribalzo del numero 11 capa per il 16 e scivola e perde palla rimessa per la 9 11 secondi 39 a 58 ora Daniele Morganti per la 9 7 secondi alla fine Polonespeca Claudio Moredu il tiro che non va rimbalzo e finisce così il terzo quarto 39 a 58 per il Mistral al piccolo la pose porteremo per l'ultimo quarto si riprende dopo la fine del terzo quarto sarà rimessa per la 9 con Daniele Morganti Claudio Moredu ancora Daniele Morganti Stefano Ferracciolo rimessa per la 9 Claudio Moredu per la 9 Stefano Ferracciolo Polonespeca Claudio Moredu va dentro e sbaglia rimbalzo del numero 16 che apre per l'11 poi il numero 9 numero 14 10 fallo di Polonespec fallo di Polonespeca terzo fallo di Polonespeca sarà rimessa per il Mistral con il numero 11 con il numero 11 va il 16 ora il 9 da 3 non va rimbalzo di Polonespeca che perde palla Stefano Ferracciolo riesce a rubargli là va Stefano Ferracciolo Claudio Moredu dentro da Alessandro Bianco poi Stefano Ferracciolo pallone per il 14 Daniele Morganti gliela Reba e va a segnare il 58 a 41 per il Mistral prova almeno a ritornare la nuova numero 11 fallo di Stefano Ferracciolo rimessa per il Mistral con il numero 9 poi il numero 9 18 quasi nella ruba Alessandro Bianco poi riesce a tenerla va dal numero 10 che sbaglia rimbalzo di Polonespeca che è per Stefano Ferracciolo poi Claudio Moredu non va ora numero 14 apri per il numero 10 poi il numero 11 la tripla che non va rimbalzo di Stefano Ferracciolo fallo del numero 14 questa è la nuova Polonespeca la rimessa ora Stefano Ferracciolo fuori da Alessandro Bianco dentro da Stefano Ferracciolo che sbaglia poi il numero numero 16 ancora il numero 16 fallo di Daniele Morganti arrivano i fischi per il numero 16 cambio cambio e nel Mistral esce il numero 9 e entra il numero 4 rimessa rimessa proprio per il Mistral per il numero 10 si 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 ma veramente che sono fischiato fallo qua cioè cazzo va il numero 4 e fallo in attacco del numero 4 fallo in attacco su Stefano Ferracciolo sarà rimessa per la nuova ballone per Stefano Ferracciolo va dentro e sbaglia poi il numero 16 per il numero 10 gliela ruba Alessandro Bianco che ora va il numero 10 per il 14 dentro dal 5 poi Alessandro Bianco ruba la palla parte Alessandro Bianco ancora Alessandro Bianco non c'è fallo incredibile ora va il numero 14 dal numero 16 che va a segnare il 60 a 41 ora è rimasto a terra Stefano Ferracciolo Daniele Morganti Claudio Moredu i frazioni di passi i frazioni di passi di Claudio Moredu sarà cambio nella nuova esce Stefano Ferracciolo entra Alessandro Brescia ora il numero 14 va dal 5 poi il 4 il 14 il 5 il 5 il tiro del 5 va a segnare 62 a 41 Claudio Moredu per la nuova pallone especa Claudio Moredu pallone especa pallone per Alessandro Brescia che riesce a controllarla vada vada Claudio Moredu riesce a passare Claudio Moredu non c'è fallo non c'è fallo addirittura rimessa per il Mistral addirittura rimessa per il Mistral ora si tesa la partita ora cambio nella nuova esce Palonespeca entra Ivan Zanchetta ora ora vai il 14 per il Mistral il 5 14 il tiro no pallone dentro per il numero 16 canestro col fallo time out per la nuova piccola pose poi torniamo no impossibile si ripende dopo il time out per la nuova sarà libero un libero per il numero 16 sbaglia il libero rimbalzo di Ivan Zanchetta capre per Claudio Moredu per Daniele Morganti Alessandro Bianco la perde il numero 10 ora Alessandro Brescia è rimasto a terra il numero 10 si rialza si rialza sul contropiede cambio esce al posto del numero 12 pallone per Alessandro Bianco poi Claudio Moredu poi Claudio Moredu ma non manco tifosi russi pallone per Daniele Morganti poi Claudio Moredu dentro da Ivan Zanchetta il tiro che non va rimbalzo poi del numero 4 capre per il 14 pallone per il 16 che è bravissimo e sbaglia ora Daniele Morganti non ci sono falli poi va il numero 14 va dal 4 il 12 il 16 sbaglia un'altra volta Ivan Zanchetta Daniele Morganti perde palla ora va il numero 14 poi il 4 12 tripla va dentro 67 a 41 4 minuti alla fine della partita Claudio Moredu per la nuova Daniele Morganti ancora Daniele Morganti il tiro da due punti che non va Ivan Zanchetta prova a tenerla in campo non ci riesce cambio nella nuova esce Daniele Morganti entra Kiko De Montis o te la rompo o te la schiocco pronone per il numero 4 quel numero 5 il 15 dentro dal 5 e va a segnare poi Claudio Moredu Kiko De Montis Alessandro Brescia tripla che non va rimbalzo di Alessandro Bianco segna 3 minuti alla fine della partita ora quel numero 4 per il 15 rimasta per la nuova scusate per il Mistral ora applausi per Alessandro Brescia che per Alessandro Bianco che esce al posto di Fernando Madaluno ora ora panne per il numero 15 rimasta per la nuova cambia non è nuova esce Claudio Moredu entra Mario salta la macchia applausi per la nuova applausi per la nuova applausi per la nuova va il numero 12 71 a 43 due minuti alla fine Alessandro Brescia perde palla e poi la dà il numero 12 il tiro del numero 15 non va rimbalzo del numero 13 poi il numero 11 il tiro del numero 13 che non va ora Mario salta la macchia per la nuova fallo del numero 12 cambio nella nuova esce Alessandro Brescia entra Stefano Comiti Mario una tripla ora Stefano Comiti Mario salta la macchia Kiko De Montis pallone sotto per Mario salta la macchia che la perde va bene Mario ora cambia nella nuova entra Alessio Salis esce Ivan Zanchetta ora un minuto alla fine dal numero 15 dal numero 12 vada numero 13 che non segna rimessa per la nuova vada salta la macchia Stefano Comiti vada Alessio Salis che sbaglia poi pallone per il numero 12 poi numero 15 il tiro che segna 43-73 un minuto alla fine della partita Mario salta la macchia vada Fernando vada l'uno anticipato dal numero 15 rimessa ancora per la nuova Stefano Comiti Alessio Salis Alessio Salis merce a segnare pallone per il numero 11 poi il 4 poi il numero 12 il tiro che non va del mister allora Stefano Comiti poi Mario salta la macchia Stefano Comiti Alessio Salis Alessio Salis segna a 6 secondi dalla fine la nuova perde di 28 punti finisce così 45-73 vince il Mistral e ora alla prossima partita da Matteo Migliaccio l'ha cercato l'ha voluto a segnara Grazie.